Consiglio Berlusconi se ne va uno dei più grandi comunicatori del nostro tempo. Non entriamo nelle questioni politiche, tanto meno in quelle personali. È indubbio però che oggi se ne va colui a cui dobbiamo l'esistenza delle tv private. Se dobbiamo pensare alla storia di Arezzo, il ricordo più vicino è la sua memorabile telefonata in diretta a tv al neosindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Correva l'anno 2015, la telefonata venne raccolta dal nostro collega Fabio Frabetti. Quando ci sono avuto l'artimentazione, non avete più tardi, non avete più di più tardi. La mia società c'è l'invitazione ma sono stato di potera il nostro corpo, quindi noi ci sono dei presenti l volontari, possiamo tutti i nostri documenti dei nostri documenti. C'è un'estituzione, appena, è un'estituzione, ma si è un'estituzione di riscogliere una cosa di produrre. Ero l'economia è un'estituzione, quindi non è l'esituzione. un'attesaa che si fa male che sono state le superi e si amati a l' worseereso cerca di una averische 3 stagioni se tratta di a camera e soprattutto moltoины insieme come così via l'uitorismo del volentzo del volentzo settimo diciamo, perché non è il più av communicate quello che è è sinkolato ha trovato una easily la strada di aria Grazie a tutti. Grazie a tutti.